Sarkozy e la Merckx erano allegri per fatti loro. Ha ragione Boxi a dire che non bisogna andare in pensione a 67 anni. L'Italia sta svendendo tutto come un mercatino dell'usato. L'Italia sta svendendo tutto come un mercatino dell'usato. Oggi devo prendere delle rose, rose canine, turche, delle acque di rose. Oggi devo prendere delle rose, rose canine, turche, delle rose, delle acque di rose. Il cappello dà un tono all'uomo. Il cappello dà un tono all'uomo.